Ciao a tutti e bentornati! Oggi vi presento una piccola composizione di tabla, un esempio di la ghi. La ghi è una composizione breve che si suona tante volte ciclicamente, spesso a velocità abbastanza elevata. I vol che compongono questa composizione sono Quindi la suonerò applicata al ciclo melodico che sentite, il nagma, suonato in questo caso dallo strumento sitar, che ricalcando il ciclo ritmico di Tintal di 16 tempi ci dà questa base melodica su cui ci possiamo appoggiare e andare in riferimento. Dunque su questa base io suonerò prima il laggi nella sua versione originale e poi lo muoverò sul beat, spostandolo letteralmente alcune volte per poi riportarlo dritto, diciamo, alla fine. Adesso questo che sentite è il ciclo melodico. Adesso questo è il ciclo di Tintal di 16 tempi, Il ciclo di Tintal di 16 tempi, Il ciclo di Tintal di 16 tempi,